Bentornati in un nuovo episodio di Breaking Worldzone, la serie dove andiamo a analizzare i gameplay di fenomeni, scarsoni, bot giganti e gente normale anche. Quindi un po' di tutto. Oggi, signori, tocca a un fenomeno. Parliamo di Correct, Correct, non so come si legga, insomma. Ed è il detentore di vari record in realtà su Rebirth Island e oggi vediamo il suo video nella quale fa il maggior numero di kill mai fatto su Rebirth Island da una sola persona. Via, partiamo! Ok, ha già due kill peraltro. Third party, normalissimo. Chiaramente se avete la possibilità di fare third party cercate di non essere pinciati a vostra volta. Ovvero third party vuol dire quando fate il terzo incomodo. Passi sulla destra, easy kill. Diciamo che i nemici non credo che reagiranno molto. Ottimo questo slide, comunque lui sente i passi. Vediamo un attimino, rivediamo questa parte perché lui appena sente i passi comunque fa questo slide cancel. Aggressivo, subito è pronto. Se c'è un nemico qui, lui è pronto a sparargli. E poi, di nuovo, slide cancel. Aspettandosi il nemico qua. Già si sentiva. Come è fatto a trovare sta lobby? Comunque non lo so. Ok, gente là in fondo. Diciamo che adesso vede uno a terra. I colpi arrivavano da quest'angolo. C'è un nemico che purtroppo la nostra visuale non si vede qua in piedi. Attenzione a avere questa cosa, chiaramente perché è abbastanza rischiosa. Perché se c'è un nemico qua, in questo momento lui è in tunnel vision di due persone. Prova comunque un third party. Ecco che atterra il primo. E diciamo che l'altro era concentrato comunque a sparare questo qua. Credo che lui adesso non lo finisca. Esattamente. È subito contro questo qua. Attenzione quando fightate in questa zona. Le ringhiere tolgono le aim assist. Quindi se siete da controller. Fate come lui. E non sparate attraverso le ringhiere. Quindi attenzione perché comunque rimarrete abbastanza esposte. Diciamo che fightare gente che è campionata qua dentro non è mai molto semplice. Vi consiglio sinceramente di usare generalmente siringhe o stun. Attenzione sparano da dietro. In questo caso lui ha esitato un pochino troppo. È rimasto a sparare questo qua davanti. Diciamo che già in... Ok adesso lui qui viene... Gli sparano. E ha continuato comunque a finire questo qua. Doveva teoricamente correre subito al riparo qua dietro. Ovviamente girarsi in questo momento sarebbe stato impossibile. E decide di schivare un po' i colpi. Esatto. Qua purtroppo c'è un taglio. Non abbiamo purtroppo la versione integrale chiaramente. Non so come si è uscito. Un pochino rischioso questo fight sinceramente. Adesso lui chiaramente sa che è una lobby bot. E attenzione a fare questa cosa perché nel momento io... Cioè nel senso se un player... Questo qua fosse stato un player decente. Diciamo che non ci sarebbe stata una grossa difficoltà a fightere una persona che ti si butta in testa così. Comunque molto bene. Fa questo specie di snaking diciamo sia bassa sia covaccia mentre spara. Quindi preme B o cerchio che sia. E poi lo ripreme. Non fightiate da covacciati perché... Se fate da covacciati 90% delle volte esponete la vostra testa. Quindi non è una buona cosa e poi siete completamente statici. Rivediamo questa parta perché purtroppo mi ero perso via. Ok. Vede il nemico. Forse gli aveva sparato prima. Non lo so. Aveva sentito di colpi. Buono. Comunque con questo... Bar ha trovato per terra. Questo tipo decide di prendere l'elicottero. Vediamo un po' se riesce a prenderlo. E purtroppo... No. Per pochissimo. Ci riprovo. Attenzione. L'ha messo one shot. Non ci è riuscito purtroppo per lui. Un drone. Sempre un altro taglio. Probabilmente aveva sentito di spari prima. Comunque... Vabbè era prevedibile comunque ci fosse gente qua. Se voi partite a prison. Cercate poi di allargarvi. Andare a prendere tutti quelli che ci sono fuori. E cambiate spesso struttura. Cioè nel senso pulite una struttura. E andate subito alla prossima. Solitamente si gioca così su Riberto. Lui chiaramente sta giocando in 1v4. Però chiaramente perché... Sono compagni randomici. Ok. Ricordatevi questa cosa. Visto che molta gente non lo sa. Nel momento in cui uccidete e confermate una persona. Avrete i ping dei suoi compagni. Che sono 5. 1, 2, 3, 4. Non so come sia possibile. Non lo so. Però ping ha 4 compagni e uno l'ha appena ucciso. Non lo so. Perfetto. Quindi adesso purtroppo non si riescono a capire bene le freccettine. Uno è a terra. Si piastra un secondo. C'è un nemico forse qua fuori. Eccolo qua. Infatti era lui. È entrato. Stava andando a restare. Ha usato il suo compagno come bait. Importante fare sta cosa in realtà ragazzi. Si sente qualcuno? Eccoli qui. Ottimo questo ragazzi. Adesso lo rivediamo eh. Adesso vi spiego il perché. Oh c'è un altro. Mamma mia. Spettacolo. Spettacolo. Vediamo un attimino cosa fa alla fine del fight. Bravissimo. Questa è una... L'avevo già visto però questo frame. Assurda questa clip. Questa è una delle... Finesse più assurde che abbiamo mai visto. Adesso lo riguardiamo bene perché è importante. Qua ha fatto veramente qualcosa di assurdo. Sento ancora passi. Forte. Eccolo qua. Ed ecco qua l'altro. Perfetto direi che possiamo... Uh. Dov'è? Non l'ho neanche visto. Spettacolo ragazzi. E muore. Torniamo però a... Prima di questa cosa. Quando uccide i due tipi. Non questi. Quelli sotto. Questi qua. Ok. Allora lui ha sentito passi. Di metallo peraltro sentivo. Quindi presumo fosse... Forse qua c'è un nemico che sta salendo la scala. Adesso non si vede benissimo. Purtroppo la qualità è quello che è ragazzi. Credo che siamo già al massimo. Esatto. Siamo già al massimo ma essendo un video non si vede benissimo. Si intravede un nemico qua. E esatto. Sì c'era il tipo che stava salendo in questo momento. Esattamente detto questa colonna. Quando avete due nemici. Uno vi sta guardando e l'altro non vi sta guardando. Anche se è più vicino a voi quello che non vi sta guardando. Chiaramente sparate a quello che vi sta guardando. Perché l'altro dovrà girarsi e cercarvi. E quindi chiaramente perderà qualche frazione di secondo. Cosa fa? Atterra il primo. Lui ha iniziato a sparare in realtà a quello che non so dove sia finito. Forse ancora dietro la colonna. Forse qua da qualche parte. Ma non si vede bene. E poi switcha sopra questo tipo. Che è invece davanti di fronte a lui. Tra l'altro una mira veramente pazzesca questo tipo. Molto bravo. E poi via. Istantaneamente. Perché era davanti al fuoco di due persone insieme. Quindi si sposta velocissimo. Qua ha fatto veramente una cosa assurda. È qua in piedi. Si intravede. Non lo vedrete mai ragazzi. Vi assicuro che è proprio qui. In questo momento lui è praticamente un one shot. Diciamo che già affrontare un fight adesso è molto molto rischioso. Ci riesce lo stesso con questo Rachel. Molto bravo. Cosa ha fatto? È entrato nella coverage. Ed è uscito subito dopo. Perché quell'altro ha detto. Ok l'ho ferito. Posso andare. Gli corro in faccia. E vado a prendermi la kill. Quello che ha fatto lui però è chiaramente uscire Sly Cancel. Mentre quell'altro. Quello che gli aveva appena sparato. Era in full tag sprint. Quindi era così con l'arma in alto. E in quel momento chiaramente prima che fai questo. E ti mette a mirare. Muori. 90% delle volte. Sei contro un nemico. Bravo. Se hai visto intanto salire uno dalla scala. In questo momento è. Senza munizioni. Senza piastre. E fa un escape veramente assurdo. Questo Sly Cancel. Molto bravo. Credo che però in realtà sia stato. 90% colpa del nemico che era scarso. E presumo. Che non avesse il FOV. Come lo dico sempre. Se non hai il FOV. E fai questi fight. Sei svantaggiatissimo. Lui chiaramente ce l'ha. Come vediamo. E qua vedi due nemici. Qua fa qualcosa di assurdo. E' vero che. L'avrebbero ucciso se fosse stato. Dei nemici forti. Ma guardate che cazzo. Fa qua. Si butta precisamente nel buco. Io non ci sarei mai riuscito. Mi sarei incassato tipo. 8 volte contro quella finestra. E scomparso. Si è messo in un angolino. Invisibile ragazzi qua. Veramente. Come fai? Cioè se tu guardi giù. Non lo vedi mai nella vita. Ecco infatti Luca si è buttato. Ha detto come. Ha avuto come. Incipit. Diciamo. Ha pensato che fosse dentro. Chiaramente non c'era. Presumo che questo qua. Non avesse il FOV ancora una volta. Questo qua. Presumo fosse quello di prima. Ok. E adesso con calma. Può. Riprovare a separarli. Una alla volta. Come ha fatto fino adesso. E riprenderseli. Qua ha sentito una porta. Controlla. Ogni angolo. Lì dentro. Non sapeva se ci fosse qualcuno. Ma ha controllato comunque. Guardando bene negli angoli. Come se ci fosse qualcuno. Perché se ci fosse stato qualcuno. Camperato. Lui sarebbe stato pronto. A rispondere indietro. E già. 15 kill comunque solo. Ok. Questo slide cancel. In realtà. Non ha un gran senso. Secondo me. Forse. Non ha un gran senso. Anzi. Forse qua dietro. Avrebbe avuto più. Più coverage. Anche dall'eventuale nemico. Che sarebbe arrivato in più dopo. Probabilmente lo sentiva. Perché qua. Ha slideato. Come se sapesse che ci fosse. È vero. Che comunque. Non ha fatto pre-five. Quindi. Se avessi avuto effettivamente. Se avessi avuto wall luck. Diciamo. Avrebbe chiaramente. Già sparato adesso. Invece ci mette un po'. Lo prende alla sprovvista. E riperoni. Questo. Oh madonna. Eccolo dove era. Ma chi l'aveva visto questo? Cioè lui entra. E c'era un pirla qua. Di un'altra squadra peraltro. Perché non l'ha ringato adesso. Ma che cazzo. Presumo che qua. Anzi. Questo qua. Il 100% non aveva il FOV. Non si era visto. Cioè. Madonna. Adesso cosa fa? Questo tipo. Mentre. Esce dalla porta. Probabilmente. Io credo che la porta l'abbia chiusa lui. Il nostro. Correct. Non penso che lui vedesse. Il nostro socio. Correct qua. Quindi rientra nella porta. Lo prende. Prende in contrattempo. Chiaramente quando fai questo fight. È un po' un 50-50 in realtà. Perché si è proprio schiantato contro di lui. E se non hai il FOV. In questi fight. In cui ti scontri. Hai perso. Il 90% delle volte. Presumo che adesso questo tipo. Nemmeno lo vedesse. Mentre lui. Chiaramente. Avendo il FOV. Lo vede. Se no. Questo. Insomma. Vabbè. E muore lo stesso in realtà. Ok. Prende finalmente solo da out. Abbiamo un MP40. E un car. È grosso culo. Posso dire. FK. Era buono lo shot. Non è entrato purtroppo. Forse era quello forte della partita. TTV. Può essere. Comunque si muoveva decentemente. Ma non c'è un grosso commento da fare. Diciamo che. Ecco. Bello questo. Carino. Sbagliato chiaramente. Quell'altro più che lui. Ancora. Per un'edifov. Slide addosso. Ottimo questa slidata in realtà. Perché. Comunque. Anche se l'altro. Alifov. Lo mette in difficoltà. Se c'è slide addosso. Anche perché lui. In questo momento. Aveva pochi colpi. Era in situazioni. In cui. Non poteva sparare. Questo. Ancora. Sta sparando di là. In questo momento. Però. Questo tipo. Proverà. Molto probabilmente. A girarsi verso sinistra. Perché sa comunque. Che c'è un nemico lì. Ok. Che non lo vedi. In questo istante. Non lo sta vedendo. Chiaramente. Però sa che è un nemico a sinistra. Quindi quello che farà è. Girarsi verso sinistra. E quindi lui. Il nostro correct. Fa un salto verso sinistra. Cioè. La sua sinistra. Che diventa chiaramente la destra di quell'altro. E chiaramente questo tipo. Adesso starà sparando di qui. E poi dovrà ricorreggere. Ancora una volta. La mira di qua. Insomma. Riperoni. Molto molto bravo. Si vede che comunque. Non lo senti fosse una lobby bot. Si ha distrutto tutti questi bot. Bot vuol dire che era molto più forte. Ecco. Prende dei colpi dall'altro. Vabbè. Allora ragazzi. Questa è essenzialmente una. Una kill fatta dall'altro che era botter. Cioè. Ok. Ha fatto lo Slycansor per schivare ma. Sì. È. Merito. Più dell'altro che ha sbagliato. Piuttosto che suo. Che cacchio di arma gli sta sparando. Forse ha no win. Questo stava andando a prendere l'Odi. Chiaramente non ci sono molti commenti da fare qua. Ok. Torna la gente a. Da dove gli hanno sparato? Scusate. Ok. Da qui non si vede. Non credo si veda. Lo vedo a malapena io. Credo che sia un nemico questo qua. Sì. Esatto. Confermo. C'era uno sotto il tunnel. Repositioning. Chiaramente non si ferma a sparare. Perché in quel momento era in situazioni di svantaggio. Quello là aveva già il mirino su di lui. Gli stava già sparando. Se si fosse sperato a sparargli su di lui. Cioè il nostro correct. Se fosse fermato a sparare su quell'altro. Sarebbe stato in una fight svantaggioso. E quindi decide di andare a riposizionarsi. Sale. Perché sa che c'è gente sopra. Attenzione. Quando è pusciata questa scala. Chiaramente non è facile. Questo caso riesce a prendere il third party. Riesce col coltellino. Coltellino ragazzi. Su Rebirth è importantissimo. Se giocate soprattutto in solo. Beh. Spotta un bot. È gigante. Sa che c'è un altro lì. Nello stesso punto in cui ho ucciso questo qua. Molto probabilmente. Esatto. Sta sparando. Questo forse potrebbe essere il momento. Eccolo lì. Oh. Sono due. Attenzione. Insomma. Quello. Ne ha visto un altro. Ok. Questa è ottima. Guardate cosa ha fatto. Sembra una puttanata. Ma in realtà l'ha fatto volontariamente. Sono abbastanza sicuro. Allora. Questo tipo. Con cui stava fightando. Probabilmente era bravo. Perché comunque ha fatto uno slack console. Bravino. Perché abbiamo visto. C'era una persona brava. E questo chiaramente non era bravo. Come vi dicevo. Non state accovacciati a sparare. Non ha nessun senso. Anche perché a stare accovacciato in questo punto qua. Ha perso l'head glitch che aveva. Di questo muretto. Faceva molto meglio stare in piedi. E a fightare prima. Non quando avrebbe pushato poi. Poi lui è stato molto bravo. Peraltro. A prendersi l'headshot. Ok. Questo tipo. Probabilmente senza fove. Perché sembra non accorgersi minimamente il nostro correct. Ma è qua a sinistra. Potrebbe essere un bersaglio. Sia per correct. Che però. A questo nemico. Che è di vitale importanza. Non so da uccidere adesso. Che è quello che abbiamo visto andare dietro al loadout. Che è ancora lì. Quindi questo qua passa in secondo piano. Va ucciso dopo. Non adesso. Cosa fa il nostro correct? Si sposta verso destra. Facendo lo slack answer. Uscendo. Dalla visione eventuale di quel tipo. Adesso ricompare chiaramente. Ma per un istante. Eccolo. Atterra con l'altro. E ora. Ok. Anche questa molto buona. Diciamo che poteva affrontarla con un head glitch migliore. Perché. C'è un nemico qui. E un nemico dietro le scritte. Vabbè. L'avete visto. Presumo. Quindi. Lui sale sul muretto. Forse involontariamente. O forse non aveva ancora avuto abbastanza riflessi. Per vedere questo tipo. Perché comunque era dietro le scritte. Quindi effettivamente ci sta. Però. Vi sconsiglio in questo caso. Chiaramente. Di salire su questo muretto. Ma. Fightare. In questo momento. Prima tra l'altro. Questo e non questo. Perché. Questo qua stava probabilmente. Per entrare nella finestrella. Lui sale comunque. Questo tipo si ferma lì. Easy. Nel momento in cui. Si accorge di avere due persone davanti. Rientra nel muretto. Non sta. Non fa quel flick. Difficilissimo. Perché comunque. Sarebbe una situazione sempre svantaggiosa. Ricordatevi che è sempre importante. Mettersi nelle situazioni vantaggiose. Uscire da quando invece. Quelle situazioni svantaggiose. O che siano anche un 50-50. Perché il 50-50. È una cosa che voi. Volete evitare. Chiaramente. Lui se lo può permettere. Perché. È un ratio 4 di qualcosa. E contro. C'ha dei moti clamorosi. Ma comunque. Meglio non rischiarsi. Nice. Rachel subito poi. Anche se non aveva tutte le piastre. Chiaramente. Il nemico non credo nemmeno si aspettasse questo Rachel. Anzi. Siccome era già stato intanto da tutti e due. Probabilmente ha detto. Vado lì. Lo prendo. E infatti non ha fatto nemmeno un po' dargli un colpo. Lui col cecchino. È stato veramente. Una bestia. L'ha sfondato. Istantaneamente. Con un bel headshot. Ok. Tipo sul tetto. Un bot. Anche qua. Non è un fight vantaggioso questo. Molto bravo qua. Qua molto bravo. Non lo sento neanche questo. Forse sono un bot. Sono tutti i bot ragazzi. Mettiamolo in. Allora. Se fosse stato un player forte. L'avrebbe chiaramente ucciso. Ma. Lui in questo momento ha sentito i passi. Di lui dietro. Cosa fa? Va avanti. Prende. L'unico riparo che aveva. Che è questa. Scrivania. E hop. Guardate anche cosa fa bene. Questo movement. Allora. Fa uno slight cancel. A sinistra. E poi saltella verso destra. In questo momento. Lui. Si troverà a sparare. Prima verso destra. Poi. A traccarare lui. Che è andato verso sinistra. Quindi. Da questo lato. Chiaramente. Va bene. Adesso qui. E allora lui salta verso destra. Si sposta verso destra. Facendo questo saltino. Quindi lui dovrà fare. Allora. Prima qua. Poi qui. E poi dovrà continuare a traccararlo. Quindi lui. Il nostro current. Continua a uscire. Dalle emassi. Si sta ad essere all'agganciato. Dal suo. Dalle emassi. Dal nemico. E. Olè. Ricordatevi sempre. Quando uccidete qualcuno. Di guardare la mappina. Infatti. Lui sapeva che c'era quel nemico. Perché aveva visto la mappina. Uh. Questa. Vabbè. E. Bella. Gun skill sua. E un po' meno di avversario. Non c'è molto da dire. Tipo che aveva preso l'odout. Qua poco da dire. Siamo a 34 kill. Ma ancora più di 20 kill. Assurda. Lo conferma. Lo conferma. Perché. Per sapere. Dove sono. I suoi. Alleati. Vediamo che c'è un altro. Che probabilmente sta prendendo l'odout. Esattamente. Diciamo che questi nemici. Potrebbero evitare. Di continuare a andare a morire l'odout. Qua. Il tipo l'aveva. Confermato. No. Esatto. Molto bravo. Qua anche. Quindi è andata di sfiga l'alleato. Più che altro. Cioè. Al nemico che stava ricaricando. Si è sentito il rumore dalla ricarica. E si è girato istantaneamente. Questo. Non so come faceva a sapere che era lì. Forse. Esatto. L'aveva pingato prima. Poi si è intervisto nella fratta. Uno che rientra. Se lo aspettava. Eh. Questo non è stato un bel fight eh. Però. Guardate cosa fa. Fa questo slide cancel. Lui sta. In questo momento. Credo. Mirando esattamente dove c'è il nostro correct. Forse leggermente a sinistra. Non deve correggere più di tanto. Qua gli è andata. Tra l'arrivo bene che fosse un bot. Perché non è stato un fight. Bello. Questo qua forse è il primo fight che ha. Secondo me è sbagliato. Però in questa situazione ormai. Eh. Devi sparare. Eh. Avete visto che ci ha esitato un pochino anche. Per sparare. Non è stato ottimale. Cioè. Comunque gli è uscito davanti. E poi si è fermato lì. Immobile. Perché dopo quello slide cancel lì. Non è riuscito più a spostarsi. E non era una bella situazione. Però ormai doveva fightare. E gli è andata bene. Anche che. Cioè. Insomma. La gun skill è. Indubbiamente. Clamorosa. Quella di. Del nostro correct. Ok doppio kill. Facile. In altre parti sempre. Presumo. Il casto sulla torre. Eccolo qua. Anche qua nulla da dire. Kill facile. Sa che c'è uno che è fuori che deve uscire. Se lo prende. Ora. L'aveva pingato sempre il tipo. Chiaramente non è wallhack. Non c'è bisogno di wallhack per fare una roba del genere. Attenzione al tetto. Ok ottimo questa cosa che fa. Controlla. Lo stanzino. Controlla. Questa zona. E' pericolosissimo. Questa zona del tetto. Perché se c'è gente in questo head glitch. Sei morto al 90% delle volte. Quindi controlla che non c'è nessuno. Se ci fosse stato qualcuno. Molto probabilmente sarebbe rientrato. Se non fosse riuscito a. Atterrarlo istantaneamente. Poi vabbè. Questi qua sono bot proprio pesanti eh. Ok. Davanti a lui. Si prende l'head glitch. Aspetta a sparare. Attenzione qui. Allora erano tre peraltro. Uno va a sinistra. Si è visto andare qua dietro. Questo ha sentito. Si è sentito il passo. E poi vabbè. Ha controllato. Qua se ne intravede un altro. Spara a lui. Perché in questo istante. E' l'unico che può avere. Fuoco diretto su di lui. Cioè fuoco diretto sul nostro correct. Di conseguenza. Questo qua. Viene tirato fuori dal. La visuale. Basta che vai a destra. Quello là. È andato chissà dove. Questo qua è esattamente. Basta che si gira a sinistra. E già al nemico lì. Quindi. Questo qua è la priorità. Eccolo. Lui sale qua intanto. Ok. Si accorge il nostro. Cespuglio che arriva. Lui prova. Intanto. Si mette in questo head glitch. Quindi si ripara. Sia dal nemico che c'è in fondo. Di. Da questo lato. E sia da lui. Cioè comunque ha un ottimo punto. Per fightare questo. Questo socio. Eccolo che spunta. Ed abbiamo visto anche quell'altro. Là in fondo a sinistra. Sicuramente adesso ci sarà. Un repositioning esatto. Eccolo qua. Questo qua potrebbe avere. Un ratio decente. Situazione di difficoltà. Primo team che è riuscito a mettere un po' in difficoltà. Bravo. Bella. Bello bello bello. Rivediamola. Rivediamola. Anche se vabbè non c'è molto da dire in realtà. Allora. Fighta questo qui. Lo cracka. Chiaramente. Adesso. Guardando a sinistra. Vede quel tipo là in fondo. Quindi decide di non pushare quel tipo a destra. Il cespuglio che aveva crackato. Perché sarebbe molto probabilmente morto. Si sarebbe trovato. Tra due nemici. Quindi ricarica. Aspettandosi. Guarda il centering anche. Ottimale il centering. Stava già guardando dove. Comunque il centering vuol dire mettere il vostro. Il vostro puntino bianco. Il vostro centro nello schermo. Già pronto. A sparare un eventuale nemico. Che sarebbe uscito proprio da questa zona. Con un ottimo Sly Cancel peraltro. Pronto a sparare questo tipo. Non credo fosse un piastre peraltro. E qui. Attenzione. One shot. Perché quell'altro. Anche quell'altro. Il cespuglio verde. Aveva fatto comunque una buona mossa. Andando a pushare. Cioè l'hanno pushato. L'avevano pinciato. Il Struck Rector era stato pinciato da. Il tipo. Il ghost. E se era un ghost. Non lo so. Non me lo ricordo più. Quello che ho appena ucciso comunque. E il cespuglio. Quindi siringa. Uh. Questo. Bellissimo anche eh. Guardate cosa fa. Sembra una cagata ma. Ok. Mentre spara la siringa. Guardate cosa fa. Vedete questo passo indietro. Fa uno shouldering bellissimo. Ah. Cazzo. Non lo vedete voi? Dietro alla mia webcam. Eccolo lì. C'è un nemico. Questo nemico chiaramente. Adesso non farà in tempo a sparargli. Anche se lui è one shot. Può comunque. Spararsi la siringhina. Mentre. Vede. Raccoglie informazioni sui nemici. Chiaramente adesso. Non lo faiterà. Poteva che riattivo la webcam. E adesso lo vede qua. In questo momento chiaramente. Decide ancora una volta di. Passare dall'altro lato. Con un'ottima slideata. Chiaramente su siringa. Qua. Vai. Slide. Incredibile. E vabbè. Qua. Veramente bravo lui. Molto molto bravo. Si prende una bellissima doppia. Guardate. Ogni volta che si piastra. Vedete che fa. Così. Perché sta cercando di raccogliere informazioni. Davanti a lui. Questo si chiama shouldering. Lo faccio sempre anch'io. Ve lo dico sempre di farlo. So che alcune cose saranno chiaramente ripetute. All'interno di video. Ma sono importanti. Oh. Brutta questa situazione. Bravo anche che scappa. Molto bravo. Molto bravo. Si 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 si. Bellissimo. Sembrano anche queste qua kill fatte contro bot a caso. Ma fondamentalmente qua. Anche se fosse stato un team forte. Non credo che avrebbe avuto molto scampo. Allora. Lui scavalca. Sentiva probabilmente dei nemici. Non sapeva quanti beccarsi. Cioè quanti sarebbe beccati in questo punto qua. Sale sul muretto. Perché non ha scavalcato in realtà. Credo che sia salito proprio saltando. Si accorge che ci sono due nemici e. Ok che questo qua si sta piastando. E questo qua sta scavalcando. Però se fosse rimasto qua a fightare. Ne avrebbe fatto uno l'altro. 90% delle volte ti uccide. Cosa fa quindi? Da due colpi. Dice ok no non ce lo faccio. Me ne vado. Un bello anche questo destra che ha fatto. Sembra una cagata. Ma qui è andato a destra. Uscendo dalla visuale che avevano loro all'interno della porta. Per anche un istante. Si spara la seringhina ancora una volta. E positioning. Challenge aggressivissimo. Questo qua probabilmente adesso non vede niente. Perché c'ha la porta in faccia. E si stava anche piastrando. Anche questo qua non credo fosse un... Sì insomma i ratei dicevano che era un bot. Però abbiamo visto comunque un... Un piastrarsi in movimento. Che non è da tutti già. Un... Dropshot che ha fatto quello. Anche qua adesso. Dopo aver ucciso. Interrato anzi questo tipo. Peraltro ha fatto hitmarker col coltello. Non l'ho... Si sente proprio il coltellino che lo hitta. Non so come sia successo. Non è morto. Vede il secondo tipo. Non sta immobile qui a fightarlo. Rientra. E... Boom. Fuori ancora. 50 kill signori. Oh complimenti. Safe che stringe. I suoi compagni sono morti tutti. Però uno ha anche quittato ragazzi. Pensate a quittare con il vostro compagno che sta facendo 50 kill. Molto buono. Ancora la stessa cosa di prima. Ah purtroppo non ha continuato fight. Prende il primo. Sapeva già che era lì si è visto prima. Qua quando fa questa cosa. Poi si sente anche. Eccolo. Sono due. Sono già due. Che stanno correndo dall'altro lato. Mi sa... Non si capisce purtroppo da che lato stanno correndo. No. Uno da questo lato. Ok. Rechal. Questo chiaramente non se lo aspettava. È uscito con l'arma alzata. Stava correndo per inseguirlo. Tanto siamo in due. Andiamo a prenderlo. C'è un pirla che sta scappando dalla porta. No. Invece no. Non era un primo pirla. In questo momento stessa cosa. Non sta qua davanti da questo tipo. Boom. Rechal. E non c'era più scomparso. Forse era dietro la scatola. Non so che fine ha fatto. Credo che abbia semplicemente abbandonato il fight. Qua ci sono delle parti che mancano. Ciacchino. Vabbè. Ragazzi. Non c'è nulla da dire. Non era lo stesso. Ho provato con la mitra di data semplicemente perché pensavo fosse lo stesso che aveva appena... Scorazzato. Come si dice? Craccato? Non mi vedo il nome. Cluster. Vediamo un po'. Situazione un po' di difficoltà in realtà. Sta sotto il cluster. Però levati. Che rischio. Ok. Si sposta verso la nuova safe. Timing completamente sbagliato dal nemico. Vi faccio notare comunque come... Per quanto possa sembrare il timing soltanto sbagliato. Anche il nostro socio aveva un centering perfetto dove sarebbe spuntato il nemico. E questo qua non è wall luck ragazzi. Semplicemente è... Essere preparati al fight. Ed è una cosa importantissima. Essendo la vita non così alta su Warzone. È importante già avere il menino dove pensi che possa spuntare il nemico. E di base era l'unico punto. Se non dietro. Però chiaramente se fosse arrivato da dietro non avrebbe nemmeno avuto senso provare a girarsi. Perché in questo momento ti uccide. Cioè nel senso se c'è un nemico che spunta da là sei morto. Due contro... Uno contro uno. Li vede perché ci sono... C'è il radar. Questo... Eccoli lì. Ecco. Ok. Perfetto. Qua se l'è rischiata parecchio. L'ha visto in questo istante. Si vede. Guardate. Eccolo. Si vede. Che sta correndo a sinistra. E sta correndo a destra. Se forse... Avesse fatto questo qua. Allora. Questo qua adesso cerca di andare sotto. Questo tipo chiaramente diventa la priorità. Ed è importantissimo liberare questo qua. Perché sai che gli altri due sono sotto. E poi sarebbe finito a pinciato. Invece se avesse fatto subito questo qua. Come effettivamente sta per fare. Si trova in una situazione di... Due emici sotto. E zero sopra. Quindi sa che questa zona è tutta libera. Fa un miss. Bellissimo anche questa cosa che fa. Rientra istantaneamente dopo aver sparato il primo colpo. E boom. Re-challenge. Con l'MP40. Guardate anche qua. Vi faccio notare questa cosa. Nel momento in cui fa re-challenge non riesce così. Dal muretto. Perché quell'altro adesso sicuramente... Credo che quel tipo stava mirando lì pronontamente questa porta. Ma esce con questo slide cancel un po' lungo, no? Sarebbe stato meglio forse un bunny hop in questo momento. Ma il problema è che con le scalette davanti non è facile fare il bunny hop. A volte ti si bugga un po'. Quindi ha optato per una... Di un po' più safe. Quindi uno slide cancel. Un po' allungato. Avrebbe forse potuto farlo un pochino più verso sinistra piuttosto che... L'ha fatto un po' diagonale. Infatti il tipo era già mirato. E boom. Lo prendi fuori... Cioè... Fuori time. Diciamo. Lui probabilmente stava mirando la portecina. Lui è uscito un pochino più a destra. Quindi ha dovuto fare... Al posto che sparare semplicemente dritto alla portecina ha dovuto fare questa cosa e poi sparare. È vero che anche Correct ha dovuto chiaramente accentrare la sua visuale ma aveva il picker advantage. Lo dico sempre. Se tu guardi un angolo... Cioè esci dall'angolo. Se tu quello che svolta l'angolo, come ha fatto lui in questo istante uscito dalla porta... Hai un piccolissimo vantaggio di... Frame, diciamo. Hai uno, due, tre frame forse. Adesso non so quanti sono precisamente. Ma vedi il nemico un pochino prima. Questa è una cosa che c'è da anni in realtà per scoraggiare un pochino il camping, diciamo. Credo che sia proprio una cosa programmata così. Questo qua l'aveva pingato, peraltro. Non so perché non ho guardato subito fuori. Ok, aveva sentito tossire qua sotto. Questo vabbè, ragazzi, è l'ultimo. E riproni. Signori, 57 kill, 15.719 di danno. Se il video vi è piaciuto lo lasciate un pollicione in su. E se l'avete visto fino a qua sono sicuro che a questo punto possono interessarvi altri video del genere. Infatti su miei gameplay credo sia un format molto molto interessante. E se volete mandarvi una vostra partita sulla quale fare un video del genere, avete il link di Discord in descrizione. E sul Discord c'è scritto tutto quanto come si fa. Aspetto alle vostre partite, ragazzi, sono importantissime. Ci tengo davvero tanto a fare anche qualcosa degli iscritti. Ci becchiamo. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.